La spirale, ma quale spirale? Inversione di Rollio, dai. Lascia e cambio. 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 Ok, sinistra 180, verso di noi. L'importante è che riprenda il centrale della vena. Dai, inversione di Rollio, forte. Via. Lascia e cambio. Lascia e cambio. Lascia e cambio. Lascia e via. Lascia e via. Lascia e cambio. Lascia e cambio. Lascia e cambio. Lascia e cambio. Ok, tieni il sinistro, tieni il sinistro, tieni il sinistro. 180 a sinistra. 180 a sinistra. Eravamo a 60-70 gradi, eh? Così va bene. Ok, attacca il comando. Destro con sinistro, quello che ti pare. E ripetiamo, simmetrica, non trattenuta. Controllata, vai. Bella. Bella. A posto, per me va bene. Bella. 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 Certo, adesso ho presentato il terreno. sono due possibilità allora una se tiri troppo troppo tardi